Mercoledì 25 ottobre 2017. Mancano 67 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno dello scorpione. La chiesa ricorda Santa Daria. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Daria e Gavino. Accadde oggi. Il 25 ottobre del 1917 inizia la rivoluzione russa. È il cosiddetto Ottobre Rosso. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri alla cantante americana Katy Perry, nata a Santa Barbara il 25 ottobre 1986. La citazione del giorno. La tentazione del potere è la più diabolica che possa essere tesa all'uomo, se Satana osò proporla perfino a Cristo. Colui non ci riuscì, ma riesce con i suoi vicari. Ignazio Silone. Dice il saggio. Grande trono non significa grande re. Proverbio del togo. La parola preziosa. La parola di oggi è chincaglia. Usato quasi esclusivamente al plurale, il termine si riferisce ai ninnoli. Piccoli oggetti simili a gioielli, ma di scarso valore e spesso di cattivo gusto, le chincaglie sono utilizzate per decorare il corpo o degli interni domestici. Il loro insieme è indicato con un termine molto più diffuso. Chincaglieria.